Ciao a tutti! Oggi giocheremo Blastash del nuovo aggiornamento Oh, ho scambiato qua qualcosa Oggi proveremo come è Qua l'ho scambiato di nuovo Blast Poi diciamoci un po' di Saluta, Alessio Oggi sto facendo i corsi Oggi sto dicendo Che quando c'è il prossimo video Che quando sarà con Spongebob Mi saprò il passo Oggi non giocheremo delle partite Oggi farò vedervi Ma è quanto è potente Ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere qua Ve lo faccio vedere Vi faccio vedere come vince e come perde Questa mappa è C'è la serata questa mappa di video Bandra shovel Bandra shovel Qua ok vi faccio vedere qua io mangio l'anatra io mangio la mela guarda quanto potente è come se non male come on spooky io già ce l'ho perchè mi è uscito il startup legend mi è uscito quindi voglio provare a giocare con facciamo una e poi finiamo il video non so fantastico ok abbiamo iniziato la partita è il momento tutto questo vinco io stiamo perdendo al primo colpo ma è contento di vincere siamo morti siamo fregati ma quello che solo una partita ho voluto fare solo una e poi ho finito e mangio a questo qua questo è il più forte di me sono morto sono fregato immaginate quanto forte è buono città allora per questo ho deciso di sopra me il pass di spongebobo solo questo e basta e poi quando aggiungono un altro pass me lo sciocco ma le sarà dopo forse lo vincendo noi stiamo vincendo no ciao ciao è impossibile configgerlo vabbò non c'è anche l'ho o meno non c'è ma l'ho aperto mannaggia mi chiede guarda avrei dato anche una missione ma a che cosa serve le mettono? niente mettiamo aspetta che voglio mettere mettiamo aspetta che possiamo mettere come si poi hanno giusto delle nuove scuole guarda hanno messo più in mente hanno aggiunto la skin di boccio la skin di stecca poi hanno aggiunto la skin di Barbie queste due e poi hanno aggiunto ancora due ancora andiamo qui poi 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 il 5 settembre sarà l'aggiornamento di spongebobo e qua sarà Ambro poi sarà Moe che Moe è un topolino è cieco che fa parte di Trioc Cast con Asse con Gru che è un giorno devo vedere come faccio ad avere Moe e poi vediamo ok se vediamo al prossimo video quando ci saperemo il pass plus di di Mortis e ciao ciao